Emma su Radio DJ, amami! Nelle foto del disco purtroppo manca la parte più importante, segnala un ascoltatore, però prima di dirlo con certezza faccio un'ultimissima verifica, ma in effetti non c'è, non c'è, ci dicono Emma ha dei piedi bellissimi. Orca miseria! C'è nel video però. Ti eri nascosti dentro degli scarponi del militare. Molto belli peraltro anche quelli devo dire. Basta con i complimenti. Non abbiamo detto la cosa più importante che è molto bella lei proprio. Grazie. Da questa mattina alle 9 qui sotto la finestra abbiamo una ventina di persone che sono venute apposta per te, tu li conosci uno per uno praticamente. Sì, ormai sì. Non hai un po' il peso delle opere, la porta, scusate. Non senti un po' il peso di questa responsabilità nei confronti loro? Cioè ti senti un po' come una famiglia o a volte possono essere... No, è un rapporto molto paritario, è un rapporto di amici, è un rapporto bellissimo, non c'è la diva e il seguito, siamo ormai un gruppo di amici. Solo noi, solo noi? La marrone ce l'abbiamo solo. La? La marrone. Ah, la marrone ce l'abbiamo solo. No, è un rapporto molto bello. Sono seguita da belle persone. Da quanto tempo più o meno questi ragazzi ti seguono? Va dall'inizio. Tu hai cominciato quando? Da amici. Da amici? Sì, e poi funziona un po' anche come il passaparola, no? Il pubblico in questi anni è molto cambiato. Vedo molti più ragazzi, molti uomini anche da soli, donne adulte. Una volta mi ricordo che un ragazzo mi ha detto, guarda, la mia ragazza mi ha proprio costretto a venire, a vederti in tour e io sono impazzito perché sei rock dal vivo. Mi hai fatto impazzire e da lì adesso mi sono appassionato anch'io e funziona un po' con il passaparola e quindi il pubblico è diventato anche molto maschile. Un bellissimo ricordo dell'altra volta quando sei venuta a trovarci un paio di anni fa, credo, del racconto della tua ostentata normalità. Ostentata intendo mantenuta, protetta, è ancora così? Cioè vivi ancora in quella piccola casa? Vivo ancora in affitto vermicino, ho paura a comprare casa. Ma perché hai paura? Hai paura che questa bolla si scoppi prima o poi oppure scaramanzia? No. O semplicemente ci stai bene? Ci sto bene, ho paura di destabilizzarmi, quindi per il momento sono lì. Sì. Poi voglio lavorare ancora, adesso comprare casa è un po' difficile, soprattutto a Roma i prezzi che sono proprio... Sono alti. No, voglio dire, essendo stato questo fino adesso l'humus che ha permesso a Emma di crescere. Tu dici? Eh sì, lo dico per esperienza personale. Mi sento ancora un po' come un'universitaria che paga l'affitto e c'è quella fame di di lavorare con un mio amico. Come sempre. Da come sempre. Non è cambiato nulla. E mi dà ancora l'impressione di stare lì appunto in una nuova dimensione come Roma, che è una città che ho sempre sognato di raggiungere. C'è la mia chitarra accanto al letto perché appena mi sveglio la notte col cellulare, registro perché ogni tanto mi vengono dei sogni. Sei cresciuta come consapevolezza nello scrivere le canzoni? Cioè in molti ti hanno aiutato in questo disco. Quanto c'è però anche di tuo? C'è tanto. Anche il fatto di scegliere Amami, che è un pezzo totalmente scritto e composto da me come primo singolo, è stata una bella conferma e forse grazie a questa cosa mi libererò un po' di più delle mie paure come scrittice. Sicuramente devo migliorare però io scrivo così, sono molto naturale anche nello scrivere, però magari adesso scriverò di più. Mettiamo la canzone che ha dato in là tutto. Questa canzone appunto si chiama Schiena. Qual è lo pseudonimo della ragazza che l'ha scritta? Nasca. Nasca. Grazie amica. Fa parte sempre del mondo di amici lei? No, no, no. È un'amica tua. Lei è il mondo di vermicina, il mio mondo. Grazie.